Un solo derby, quello dello stadio Aragona, come gara di cartello per la regione Abruzzo nella quarta giornata del Giron F di Serie D. Quello tra Pineto e Vastesi è un match importante, specie per i biancorossi, reduci da una buona prova a Fiuggi ma usciti sconfitti a causa della rete nella ripresa di Melara. Sull'altro fronte il Pineto, senza lo squalificato Cercelluti, che però lontano dal Mariani Pavone ha già avuto modo di far vedere la propria pericolosità e il Castelnuovo ne sa qualcosa. La squadra di Amaolo, dopo la sconfitta all'esordio, sta iniziando a viaggiare a marce alte per agganciare le parti nobilissime della graduatoria. Un derby importante e difficile. L'Avastesi secondo me è un ottimo organico. Ha inserito qualche altro giocatore come Diallo e l'altro attaccante Martiniello e Bernardi, quindi ha messo qualche giocatore in organico. Abbiamo smaltito la sconfitta casalinga nel derby con Lotaresco. Sappiamo che dobbiamo lavorare per poter migliorare, quindi siamo all'inizio e dobbiamo crescere come squadra per avere un'identità e un equilibrio nelle due fasi, sia quella di non possesso che nella gestione della palla. Nella Vastese, settimana che è servita peraltro, a fare entrare la punta Martiniello ancora di più negli schemi di Massimo Silva, l'attaccante a Fiuggi ha sfiorato la rete che sarebbe valsa il pareggio e che sarebbe stato utilissimo in ottima classifica aspettando ancora l'esito del ricorso della gara con Giulianova di due settimane fa. Il Fiuggi invece sarà l'avversario del Notaresco che ad Agnone ha disputato una gara da squadra matura che conosce le proprie potenzialità. Gli altomolisani sono in necchia alla difficoltà e il rosso-blu di Epifani li hanno regolati con uno 0-3 senza attenuanti. Ma la squadra di Incocciati è ben più pericolosa e il Notaresco, specie tra le mura amiche, deve cercare di trovare gli spazi per farmare, cosa che due settimane fa contro i Rieti non è riuscita. Il Castelnuovo invece, vera sorpresa di questo inizio di campionato, deve sbloccarsi tra le mura amiche e a porte chiuse. Di fronte si troverà proprio l'Agnonese, fanalino di coda e che in questi giorni ha cambiato anche l'assetto societario. Importanti ingressi in dirigenza, tra cui l'ex centravanti di Roma e Cagliari, più recentemente allenatore dell'Empoli Roberto Muzzi. La New Energy, società romana, è infatti la nuova proprietaria del club Alto Molisano. Alla guida del Sodalizio Granata ha nominato Daniele Trotta, 29enne, originario di Capracotta. Trotta subentra ad Antonio Melloni, che resterà nei ranghi della dirigenza insieme al gruppo storico del club Alto Molisano. Dalla parte opposta, Guido Di Fabio avrà a disposizione pienamente Mario Titone, che con ritrovato sbarbati davanti e lo viso al centro del campo, possono rappresentare un'ossatura per aspirare a grandi traguardi. Infine la Giulianova, che dopo essere stato sconfitto di misura dalla recanatese, deve cercare di riscattarsi a Tolentino. Impegno complicatissimo per gli uomini di Del Grosso, perché i cremisi sono partiti fortissimo. Hanno sette punti in classifica, mentre i giallorossi non potranno contare sul proprio tecnico. Espulso Alfadini sei giorni fa e appiedato per un turno dal giudice sportivo. Grazie a tutti.